Lo scauri riparte da due giocatori che ne hanno scritto la storia perché se Dante Ricciotti è pronto a partire per la decima stagione con la maglia dei delfini Lorenzo Scampone è uno di quelli che le sue soddisfazioni da giovanissimo se le è tolte vincendo anche la Coppa Italia torna dal prestito alla Serapo, iniziamo dal capitano perché Dante Ricciotti ormai è il capitano di questo scauri decima stagione, ogni anno sembra difficile partire però ogni anno come lo scorso anno vi siete tolti belle soddisfazioni Sì, buonasera, ogni anno si fa sempre più difficile, l'estate è sempre un punto interrogativo per fortuna poi si riesce a fare l'iscrizione ed eccoci qua di nuovo a difendere la maglia dello scauri Come hai detto tu personalmente il decimo anno però sempre con la stessa voglia e sempre cercando di raggiungere gli obiettivi insieme ai miei compagni, insieme alla società che per fortuna l'anno scorso si è concluso molto bene, meglio del previsto speriamo quest'anno di fare altrettanto bene Dieci anni su 70 anni di storia dello scauri, dieci anni su una carriera di un giocatore che sono tantissimi perché rimanere a scauri tutto questo tempo? Io ormai come dico sempre ci sentiamo, io ormai con mia moglie e con mia figlia ci sentiamo come in casa ma soprattutto perché ci fanno sentire come in casa abbiamo trovato delle persone splendide che ci danno sempre il loro supporto ci stanno sempre vicine, abbiamo creato delle amicizie penso che questo sia molto importante allora di scegliere non solo la parte sportiva bensì tutto ciò che riguarda l'ambiente, insomma un posto di mare quindi meglio di così non si può E' tornato a scauri coach Enrico Fabri anche lui di storia con te ne ha scritta tanta qui a scauri come vedi questo ritorno dell'eterno coach? Io con Enrico abbiamo fatto, non mi voglio sbagliare, però ho 4-5 anni insieme è andata sempre bene, sono molto contento che sia tornato anche lui è ormai uno scaurese d'adozione quindi la fortuna è che lui conosce il mio modo di giocare io conosco il suo modo di allenare insomma cercheremo di fare come ogni anno io cercare di portare le sue parole in campo sono sicuro come lui sa fare che tirerà il meglio di ogni giocatore che verrà quest'anno qui dobbiamo essere una sola persona insieme anche a Vincenzo Pontecorvo e cercare di trasmettere tutto ciò che loro due vogliono cercare di trasmetterlo in campo per far sì che anche i tifosi apprezzino il nostro modo di giocare Tra poco parleremo di calendari con te perché l'ironia della sorte il calendario ha messo davanti un ex di turno abbastanza caro è proprio la prima giornata Lorenzo Scampone per te quest'anno deve essere probabilmente l'anno della consagrazione l'eterno giovane ormai è diventato grande forse essere presentato proprio all'inizio con il capitano è già un segno che da te ci si aspetta tanto a Scauri Sì, spero sicuramente di soddisfare tutte le aspettative quest'anno di presto mi è servito molto sono cresciuto e ho cercato di lavorare appunto per arrivare a questo cioè il mio sogno sin da bambino vedere qui giocatori come Dante altri talenti giocare in questo campo e poi ritrovarmi a fianco a lui a difendere la maglia è veramente qualcosa di grande veramente è una bella opportunità che mi è stata data Da Eterno Under come hai vissuto queste stagioni a Scauri e visto che ormai sei al tramonto come Under come giocarla questa stagione Questa stagione sicuramente deve essere un trampolino cioè so che devo lavorare duro, devo lavorare sodo e il coach mi aiuterà sicuramente a crescere ma la mia carriera d'Under posso dire che è stata bella qui soprattutto ho seguito Dante per tre anni sono stati tre anni fantastici ho imparato molto è stato il mio maestro Il campionato presenta squadre importanti c'è quella Juve Caserta che ha scritto anni di storia il cuore Napoli che torna in Serie B forse uno dei campionati più difficili degli ultimi anni Sì, ci sono squadre di livello e nomi molto importanti sarà difficile, è vero ma noi come sempre ce la metteremo tutta e venderemo cara la pelle con il pubblico, il calore del pubblico di casa sarà sicuramente un'arma in più Dante ha abbracciato Scauri perché ormai è cittadino da dieci anni ma da scaurese, essendo cresciuto fin da bambino che cosa significa giocare con lo Scauri? Ma è un qualcosa di... cioè secondo me è eccezionale perché come hai detto prima fin da piccolo io sono venuto qui vedevo le partite ho seguito lo Scauri da sempre praticamente ho visto anni e anni di persone che andavano persone che tornavano adesso trovarmi qua con alcune delle persone che vedevo da bambino è veramente quasi un sogno posso dire Anche perché da bambino praticamente avevi quasi 8-9 anni quando hai visto la prima volta giocare Dante Dante, il calendario mette Andrea Lombardo e quel Green Palermo come prima sfida la prima giornata il 7 di ottobre si va a Palermo con quale spirito e soprattutto contro una squadra che lo scorso anno ha lavorato tantissimo in un altro girone trasferte enormi ma alla fine si è saputa confermare un po' come voi Sì, ovviamente con Andrea c'è un'amicizia perché è un amico in quella squadra troveremo anche per esempio Ari Svoboda che insomma non ha bisogno di presentazioni il fratello di Andrea insomma tanti giocatori che questa categoria l'hanno fatta anche a livelli superiori ma insomma noi dobbiamo essere una squadra umile che deve affrontare ogni domenica sarà una partita a sé quindi dobbiamo cercare di affrontare tutte le squadre come se fosse una finale noi il primo obiettivo sarà quello della salvezza perché appunto le squadre il campionato il livello si è alzato molto ma questo non ci intemorisce anzi ci deve ci dà qualcosa in più ci farà allenare più forti per affrontare le partite al meglio poi in campo si vede come andrà Roberto Di Colla a te gli onori di fare il saluto di questo basket scauri che si prepara la stagione 2018-2019 una stagione che vede un campionato di serie B diventato complicato perché sono tante le squadre anche con blasone tipo il Caserta tipo il Napoli che si affacciano a questa realtà come si sta preparando lo scauri? Buonasera proprio oggi abbiamo visto il calendario e praticamente quest'anno credo che sia una delle annate più dure visto i roster che ci sono e stanno condituendo ad allestirsi nel migliore dei modi incontreremo il Palermo con degli ex c'è Svoboda c'è Lombardo e poi avremo le due le due in casa che dovrebbero essere diciamo più accessibili alla nostra portata il Pozzuoli e il Catania dell'ex troveremo un altro ex Vincenzo Provenzani che proprio giorni fa ha firmato con con il Catania La scelta per il coach è ricaduta su Enrico Fabri un ritorno per lui un ritorno gradito sia alla dirigenza che al pubblico anche perché è uno di quei coach che in 70 anni di storia ha portato successi sicuramente Enrico ha dato tantissimo al basket scaurese e sì c'è diciamo Enrico come ha scritto qualche tifoso atto terzo Enrico sicuramente allestirà stiamo allestendo insieme alla società un nuovo roster fatto di di giovani su cui punteremo molto quest'anno e sono felice perché veramente è una persona che merita di stare di stare a Scauri poi tra l'altro è casa sua visto che ha fatto famiglia qui ha una bellissima bambina Valentina e gli faccio un in bocca al lupo di cuore Prima di parlare con coach Fabri con lui parleremo soprattutto di quello che sta il cammino di questo Scauri dobbiamo parlare con Emanuele Forgetta ancora un anno appresso a questo Scauri perché è difficile fare una società ma è difficile anche seguirla nel corso della stagione una stagione che come ci ha chiesto il presidente Ricola si presenta ricca di impegni ma soprattutto ricca di squadre che forse è anche un piacere affrontare Buonasera a tutti intanto ringrazio il coach Fabri di aver abbracciato di nuovo il nostro progetto un progetto che avevamo iniziato qualche anno fa due anni fa per la precisione poi per via di risultati che magari noi pensavamo di raggiungere probabilmente troppo velocemente senza dare comunque spazio a Enrico di lavorare bene decidemmo insieme a lui di comune accordo di lasciare la nostra come dire la nostra unione onestamente forse siamo stati troppo precipitosi in quella scelta perché comunque Enrico deve avere uno spazio maggiore a mio avviso per far sì che comunque potesse lavorare tranquillamente con i giocatori cosa che poi facemmo successivamente col coach che è venuto poi dopo di lui per quanto riguarda questo campionato con Fabri abbiamo già visto un pochino come gestire diciamo la nostra squadra giovane allo stesso modo come lo scorso anno una squadra fatta composta da giovani una squadra fatta da persone che probabilmente questa categoria la meritano ma per una questione diciamo di spazi giocatori che non hanno alcuni giocatori che non l'hanno mai fatta io direi che intanto come obiettivo principale che noi ci stiamo cioè comunque lo stiamo dicendo a tutti come anche a questi emittenti la nostra la nostra idea è intanto la salvezza conservare il titolo e restare in serie B anche salvandoci l'ultima giornata dei play out a noi va bene comunque perché comunque stiamo lavorando su un roster di ragazzi molto giovani e rispetto agli altri roster sicuramente abbiamo qualche lacuna però vi posso dire che sarò sicuro al 100% che i nostri atleti renderanno dura la pelle per far sì che comunque il Paraborrelli si riempia di nuovo come in questi anni e che daremo comunque spettacolo a tutti coloro che si abbonano al basket e scauri e daremo lustro a questo che è il basket e scauri in giro per l'Italia dando sempre il massimo e comunque garantendo sempre uno spettacolo piacevole una cosa che posso dire a tutti comunque di sostenerci visto che ci saranno delle partite molto belle come Caserta Napoli Salerno lo stesso come Palestrina Valmontone cioè squadre blasonate Matera che comunque è rientrata in questo girone quindi saremo onorati di giocare con queste squadre pure Barcellona infatti onorati di giocare con queste squadre e quindi faremo di tutto per far sì che comunque il basket e scauri continui il suo percorso nel migliore dei modi io faccio un in bocca al lupo a noi prima di ogni altra realtà però sarò felice diciamo e onorato comunque di stare a fianco ad Enrico sulla panchina e a sostenerlo comunque in quello che è la sua poi missione sportiva per quest'anno e dandoci fiducia infatti per la prima volta come coach abbiamo preferito fare un contratto biennale per far sì che comunque la sua la sua presenza qui e il suo lavoro con i giovani duri nel tempo un'ultima novità che riguarda le giovanili che comunque lo volevo dire in questo momento il coach Fabri si è offerto volontariamente di aiutare gli allenatori delle giovanili quindi dell'under 13 under 14 under 15 dell'under 18 quindi anche lui scenderà sul campo insieme a quei ragazzi per far sì che iniziano a nascere nuove leve per poi che poi utilizzeremo nel corso degli anni per la prima squadra quindi intanto cedo la parola tranquillamente a Enrico e grazie a tutti sosteneteci suggeriva a Emanuele Forgetta quello che sono le squadre da tenere sott'occhio in questa stagione coach Enrico Fabri prima di tutto bentornato a Scauri un lungo giro il tuo ma alla fine si torna in un palazzetto che ti ha dato tante soddisfazioni e ci hai dato tante soddisfazioni girone di ferro potremmo dire così? credo che sia forse il girone più forte di tutta la Serie B e questo ci onora partecipare a questo girone Emanuele ha già detto una serie di squadre competitive però quest'anno non la fa la differenza solo le squadre che vogliono vincere ma anche quelle di bassa classifica che a differenza degli altri anni c'erano 6-7 squadre su cui potevi fare la corsa per prendere l'ottavo posto o il settimo posto nei playoff quest'anno sarà più difficile che anche quelle squadre hanno allestito dei roster competitivi quindi sarà un combattimento dalla prima partita fino all'ultimo e quindi dobbiamo essere preparati io sono emozionato quando rientro dentro il palazzetto di Scauri e ringrazio tutta la società in particolar modo tutti i dirigenti Roberto il presidente che mi hanno voluto subito a prescindere dalle mie scelte che avrei fatto ma soprattutto io penso un po' di cose cioè qui c'è un paese qui c'è un palazzetto qui c'è una passione qui c'è un pubblico unico e dare la possibilità a tanti ragazzi di fare la serie B qui ha un sapore ed è una maglia particolare da vestire e da onorare il progetto è un po' diverso da quello che è degli anni precedenti perché farlo con un campionato così difficile veramente è da fare l'applauso a loro che ci credano e hanno fatto degli sforzi in mani per arrivare a dire noi siamo in serie B anche quest'anno e l'anno prossimo festeggeremo i 70 anni di storia di questa società e credo che sia un traguardo molto molto importante e tra l'altro c'è da pensare come ha detto Emanuele proprio sul fatto che quest'anno cambia un po' il modo di vivere la prima squadra cioè non c'è l'allenatore che fa solo prima squadra ma l'allenatore della prima squadra che parte viva nel settore giovanile ci saranno tante cose su cui lavoreremo stiamo lavorando per cercare di allestire un settore giovanile sempre migliore per cercare di reclutare anche fuori in modo che alla fine il basket scauri riesca a giocare con tanti giocatori di proprietà piuttosto che chiedere giocatori da fuori perché questo è quello che richiede oggi il mercato e noi siamo onorati di intraprendere un'avventura così veramente devo fare complimenti a tutti quanti alle annate precedenti per quello che è stato fatto e all'annata di quest'anno perché ripartire così è veramente una cosa veramente difficile cioè ci vuol molto coraggio a intraprendere un'avventura così e avremo bisogno del sostegno di tutti innanzitutto ringraziamo già tutti i piccoli sponsor che stanno già collaborando con noi per farci partire i nuovi che arriveranno e spero che siano numerosi al nostro pubblico insostenibile che sarà che è unico è ineguagliabile io so quando si attacca veramente a una squadra cosa può dare questo pubblico quindi avremo veramente bisogno del sesto uomo degli ultras che faranno il loro bel casino perché ci vuole quello e poi soprattutto ecco ci vuole veramente che questo paese questa passione si renda conto quanto è difficile oggi mantenere una categoria così importante e nazionale per un paese così piccolo che merita questa categoria e c'è bisogno che tutti ci stiano accanto con la positività la voglia di fare di credere in noi anche quando cadremo di esserci lì a sollevare piuttosto che a darci un calcio perché noi saremo sempre pronti a rialzarci a combattere sempre un pensiero sul calendario notizia di oggi Scauri chiuderà le ultime due in trasferta e questo magari per una squadra che deve salvarsi non è una buona notizia cercheremo di arrivare con quelle due partite che non contano per la salvezza questa è la cosa che ti posso dire a oggi vorrei arrivare a quelle due che si devono preoccupare gli altri e non io quindi credo che le prime giornate con questi roster sarà veramente molto difficile capire ci saranno roster che non saranno ancora perfettamente ruodati ci saranno roster che non partiranno bene ci saranno roster che magari dureranno fatica e poi magari nel corso della stagione miglioreranno e andranno prenderanno il via però credo che ogni partita ha storia a sé quindi nessuno ti può sentire inferiore se te non te lo fai sentire quindi io credo che noi saremo pronti a non farci mai farci sentire inferiore noi vogliamo combattere con tutti data della preparazione? dobbiamo decidere bene che sapete che qui c'è il problema che questo è un posto turistico quindi trovare reclutare le case in tempi giusti è un po' difficile però pensiamo che dal 20 in poi ogni giorno potrà essere utile lo comunicheremo nei prossimi giorni e comunicheremo man mano i nuovi acquisti di questo di questo scauri che comunque ha tante facce già conosciute ne avete già viste due che rappresentano un po' lo scauri come giocatori grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti